Stasera il sipario del teatro Regina Margherita di Caltanissetta si aprirà per il concerto di Capodanno, evento tra gli ultimi del programma del Comune Nisseno per il Natale 2021. Sarà la giovane orchestra Sicula, guidata dal suo direttore e il maestro Raimondo Capizzi, ad esibirsi insieme agli ospiti della serata, la soprano Liliana Aiera e il tenore Francesco Cipri. Il concerto di Capodanno sarà in diretta streaming e il repertorio sarà tipico della tradizione di Capodanno, dei concerti di Vienna e dei concerti della Fenice di Venezia, quindi i tipici waltzer di Strauss e le tipiche aree italiane. È stato molto difficile organizzare questo concerto come i concerti dei mesi scorsi, siamo retrici dai successi del Berlini di Catania con il musical Camicette Bianche e il concerto di Natale di San Cataldo, giunto alla sua nona edizione. Quindi noi ci apprestiamo ora a fare il nostro decimo anno, il prossimo anno di fondazione dell'associazione e dell'orchestra. Biglietti già sold out, ma per chi non ha fatto in tempo a prenotarsi, c'è la possibilità di seguire l'evento in streaming grazie al link indicato sulle pagine social.